Torniamo a... siamo disabituati a questa roba perché siamo degli ignoranti, disabituati al pensiero, non riusciamo a leggere una formula, questa roba qua già manda in casino la gente, io lo so che se faccio leggere sta roba al 99% dei player non mi sanno dire cosa vuol dire, cani, dovete reimparare queste cose.